Preghiera della Sera Signore Gesù Cristo, Tu ci hai rivelato tutto quello che hai udito dal Padre e ci hai chiamati Tuoi amici. Avere in Te un amico ed essere Tuo amico è molto di più che chiedere ed essere esauditi. Oggi io non chiederò nulla, ma stupito mediterò su questo pensiero. Chi trova un amico trova un tesoro, un vero e proprio sollievo per la vita. Che cosa succede e che cosa ottiene l'uomo che come Abramo, Mosè e gli Apostoli ha trovato in Dio un amico? Mi ricordo la sola condizione da Te posta. Voi siete amici di Dio e miei amici se farete ciò che vi ho comandato. Amen Grazie Grazie Grazie